Io sono Eleonora Lombardo, ho quasi 26 anni e ho studiato la Bernstein School of Musical Theatre di Bologna, che è un'accademia professionale di musical, dove insegnano alcuni insegnanti americani, tra cui Shona Farrell. Dopodiché ho lavorato in alcune produzioni professionali, come Biancanevil Musical, come Ladies, la Commedia Musicale, con Riccardo Fogli. E ora sono Artemisia Gentileschi. Eh sì, ebbene sì, sono io. Ho questa stupenda responsabilità. È molto intrigante fare questo tipo di lavoro, perché è la prima volta che interpreto un ruolo, un personaggio storicamente esistito, quindi va trattato con un altro tipo di sensibilità, di delicatezza. E poi è un personaggio che ha stravolto la sua storia e ha stravolto, diciamo, proprio una concezione importante. Si è riuscita, talmente determinata, si è riuscita ad affermare come pittrice, ad essere riconosciuta come pittrice, in un'epoca in cui ovviamente era difficilissimo per una donna conquistare certi diritti, certi riconoscimenti. Invece lei, con il suo carisma, la sua determinazione, ci è riuscita, e adesso che sto leggendo le sue biografie, mi sto documentando, rimango veramente basita nella forza d'animo che aveva in un periodo del genere. Poi dopo lo stupro subito, dopo il processo, la tortura, non l'ha fermata veramente nessuno. E difficoltà, un po', nell'interpretare questo ruolo, appunto, per questo tipo di responsabilità che mi sento, di essere più fedele, più verosimile a questo personaggio meraviglioso. Le voglio un bene che, appunto, voglio essere il più fedele possibile a quello che lei ha segnato nella storia. E quindi, bene, non potete mancare, non potete mancare, vi aspettiamo il 22 marzo al Triato Lyric di Assisi per la prima nazionale di Artemisial Musical. Ciao!